Per tutelare il diritto dei bambini toscani a riprendere i percorsi educativi e ludici interrotti bruscamente dal lockdown per l'emergenza covid e favorirne la ripresa attraverso i centri estivi, la regione toscana ha deciso di stanziare per prima in Italia 2 milioni di euro di risorse proprie destinate ai comuni affinché elaborino anche con il coinvolgimento delle associazioni sportive, ricreative e culturali attive nei rispettivi territori progetti educativi e ricreativi destinati ai bambini per ora dai tre anni in su come previsto dalle linee guida emanate dal governo che al momento non comprendono la fascia dei piccoli da 0 a 3 anni, tutto con una priorità che è la tutela della salute dei bambini e degli operatori. Noi siamo intervenuti rapidamente proprio per dare ai comuni gli strumenti e l'ossigeno per poter in qualche modo fare un concorso di idee e quindi all'interno del nostro cantiere a scuola ci piace sempre dire che dovrà essere un cantiere anche fisico e materiale per fare degli adattamenti perché le attività in presenza possano riprendere in sicurezza ma soprattutto un cantiere di idee e di progettualità. Ai 2 milioni di finanziamento regionale si aggiungeranno poi le risorse stanziate dal governo, 185 milioni a livello nazionale. Sempre al governo la regione ha chiesto poi che le linee guida emanate per i centri estivi siano estese anche ai bambini dei nidi da 0 a 3 anni che in canna sono circa 50 mila.